ciao a tutti benvenuti su macerix tutorial oggi voglio farvi vedere una nuova funzionalità che da qualche giorno ha preso piede su whatsapp se voi cliccate una sola volta sul tasto della registrazione audio vi comparirà tieni premuto per registrare un video tocca per passare all'audio se ricliccate una volta ricompare l'audio il vocale classico vocale di whatsapp se ricliccata una volta switchate sul video di whatsapp questa novità funziona in questo modo tenete premuto sulla telecamera cliccate su inverti vi fa visualizzare e registrare il mini video che volete rigirando la telecamera potete inquadrare voi stessi è un selfie video un video selfie ecco inviato il video che sarà proposto in anteprima poi ci cliccate e ve lo riascoltate spero che il video sia utile lasciate un like condividetelo mi raccomando iscrivetevi al canale un abbraccio ciao a tutti da major x